Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quest'oggi, questo sabato mattina, siccome non c'è un cazzo da fare, faccio un video nella macchina, perché devo andare a fare un paio di commissioni, perché a casa tutti dormono, è abbastanza presto stamattina, e volevo parlare un attimino con voi, anche se questa inquadratura non mi piace tantissimo, però uno si deve accontentare di quello che ha. Allora, Refactor 2 rilasciano i ragazzi di studio 397, rilasciano il circuito in tono al laser scan con le api X12, mentre il microfono se ne va un po' dove cavolo gli pare, e Codemaster annuncia F1 2018 con la loro steel box, non che ne frega niente a nessuno, e Q1 simulazioni, ieri ci rivela finalmente la data di uscita di assetto corsa, che è previsto per... Quindi ragazzi, come dicono loro, save the date, noi ci vediamo prestissimo per un nuovo video, Ciao!